Possiamo, andiamo, scusateci, perdiamo sempre sulle cose tecniche perché non siamo tecnici, però la tecnica ha pervaso le nostre esistenze e non possiamo farne a meno da una parte, ho visto che siete contenti di poter utilizzare la tecnologia, però questa super macchina che è la tecnica che alla fine governa le nostre vite, noi pensiamo che ci aiuti ma in realtà ci governa, ci ostacola e oggi ci fa partire con questo piccolo intervento con quattro minuti di ritardo, che se lo sommiamo per quanti siamo fa un bel po' di tempo e le vite sono a termine, mentre invece la tecnica è lì e resta lì, anche dopo che noi saremo andati a casa nel senso ampio dell'accezione. Allora, mi è stato chiesto di parlarvi di sicurezza informatica, cerchiamo di farlo però ho deciso, è stata una decisione abbastanza combattuta e spero di riuscire a coinvolgervi oggi, di riportare verso gli aspetti umani che ci sono anche in questa cosa che io faccio che è appunto la sicurezza informatica, ma lo vediamo fra un attimo. Perché parliamo di sicurezza informatica? Allora, il tema principale per cui parliamo di sicurezza informatica ed è una cosa così diffusa non ha niente a che vedere con le vostre vite o con la mia. Parliamo di sicurezza informatica perché è un problema economico, cioè l'informatica, la tecnica, la tecnologia controllano, sono così importanti per la nostra esistenza e controllano l'economia sulla quale si basa il nostro benessere al punto che se c'è un qualche problema lo investighiamo. La sicurezza informatica è un grosso problema per la nostra economia perché è un'impatta sulla tecnologia che ormai è diventata substrato di qualunque aspetto economico. Non voglio farla troppo lunga, voglio portare alla vostra attenzione solamente l'ultimo dei dati che vedete in questa slide, che è l'unica che prometto essere in inglese, e il resto l'ho fatto in italiano, che sono gli attacchi, la crescita vertiginosa degli attacchi di tipo multiple target. Gli attacchi di tipo multiple target sono attacchi di tipo generalista, cioè l'attaccante attacca tutti coloro che sono connessi ad internet, allo stesso modo che siano imprese, che siano persone, siamo tutti esposti alla stessa internet. Bene, davanti a questi attacchi viene un po' meno quella presunzione di sicurezza che sta dietro a chi vuoi che interessi il mio business, no? Io muovo troppo poco denaro per essere interessante per un attaccante, mentre invece l'attaccante attacca tutti, porta a casa quello che riesce a portare a casa. E questo ha di fatto portato a un effetto valanga che ha devastato le nostre imprese che sono alla base del nostro benessere, la nostra economia. Bene, per questo ci interessiamo molto di sicurezza informatica e questo ci ha portati, chi conosce questa persona? È il primo quiz della giornata. Uno solo, due. È Linux, è Linux, è Linux Torwals, l'inventore di Linux, il primo contributore a Linux, che ha coniato questa locuzione, lui ha parlato di security circus in maniera molto piccata, cioè da quando c'è questa cosa della sicurezza informatica siamo tutti concentrati lì e sembra che le cose importanti stiano tutte lì, mentre invece ce ne sono molte altre che stiamo forse un po' perdendo di vista e io non faccio parte di questa cosa, era sostanzialmente il messaggio. Se cercate Linux Torwals security circus con il vostro motore di ricerca preferito troverete questa sua uscita. Fatto sta che l'aspetto importante che voglio dirvi è che un po' tutti si stanno occupando di sicurezza informatica e per arrivare al punto, perché io mi interesso molto di sicurezza soprattutto nelle organizzazioni, nelle aziende, vi propongo di partire dai risultati, cioè come stiamo messi a livello di sicurezza informatica in Italia. Vi presento tre i più eclatanti risultati di un'analisi che abbiamo condotto su 2000 macchine, server e computer presenti in aziende italiane, tra le quali 200 erano macchine Linux perché sono molto poco usate, 1800 Windows e fra questi 200 erano domain controller, voi non saprete cosa sono, ma è sostanzialmente il cuore pulsante della sicurezza di rete di un'organizzazione. Bene, il 92% di queste erano configurate in modo non sicuro, il 76% di queste esponevano servizi all'interno della rete locale, dell'organizzazione o addirittura verso internet, servizi non sicuri e in generale c'era un diffusissimo utilizzo errato e non sicuro dei privilegi amministrativi sulle macchine. Sono temi un po' tecnici che probabilmente vi dicono poco. L'effetto di questo qual è? L'effetto di questo è semplicemente che nel momento in cui chiunque fa il doppio clic sbagliato, visita il sito sbagliato, inserisce i dati sul sito sbagliato e l'attaccante può cominciare il suo attacco, a questo punto la tecnica non tiene. Significa che parliamo per esempio di, in generale parliamo di minacce, ma parliamo di virus così ci capiamo, il virus attecchisce immediatamente sulla postazione dove l'operatore fa la cosa sbagliata, prolifera all'interno della rete, riesce ad accedere ai dati, li porta fuori, li cifra, blocca tutto e è game over sostanzialmente, poi il resto lo leggiamo sul giornale se leggete i giornali in maniera interessata su questi argomenti. Quindi questo è, va bene il campione non è particolarmente significativo, 2000 computer non sono campione significativo, sono tutti computer in Italia, però questo è lo stato dell'arte che noi rileviamo esserci a livello di sicurezza nelle organizzazioni italiane. Bene, andiamo su tema non secondario, cioè mi presento, sarebbe anche ora, io mi occupo di sicurezza informatica da quasi 20 anni ormai, me ne interesso da oltre 20, ma me ne occupo da più o meno 20 e ho fatto per tanti anni il sistemista in ambito Linux, quindi mi sono trovato a non dovermi curare per tantissimi anni di aspetti che invece avevano impatti devastanti per chi lavorava lato Windows, ma al di là di questo, ed è qui l'aspetto interessante che spero di riuscire a portare oggi per voi, che è un aspetto profondamente umano, ho curato e curo tuttora progetti in cui, va bene, prendiamo lo stato dell'arte, vediamo stiamo messi malissimo, l'organizzazione decide di mettere in atto un piano di rimedio, dice cavolo sta situazione di sicurezza informatica non sta bene, domani potrei perdere tutto e non avere più un'azienda, cerchiamo di mettere a posto questa situazione. Quindi ho fatto dei piani di rimedio in tante aziende per tanti anni e ho visto ripercorrere sempre gli stessi, non sempre, ma tante volte ho visto fare gli stessi errori che hanno portato i progetti sostanzialmente a fallire, anche miseramente. Quindi quello di cui vi voglio parlare oggi per portarci un po' fuori anche dall'aspetto tecnico della sicurezza informatica è appunto come si fa un progetto di sicurezza informatica, come viene fatto normalmente e poi le tante sfaccettature che determinano i profili sotto i quali questi progetti possono fallire, fallire miseramente, fallire drasticamente, fallire al punto che non riesci neanche a farli partire perché hai fatto dei requisiti che non riesci assolutamente a portare a terra. Bene, per fare questo, siccome è comunque bello se tornate a casa e dite ho visto un talk sulla sicurezza informatica e vi chiedono ok cos'è la sicurezza informatica, partiamo da questo. Potreste non avere assolutamente idea di cosa sia e auspico che vi porterete a casa qualcosa di più interessante di questo, ma vi devo dire che la sicurezza informatica sono misure che si applicano per garantire quelle tre cose lì, cioè la confidenzialità delle informazioni, l'integrità delle informazioni, la disponibilità delle informazioni. Allora, misure cosa significa? Significa misure tecniche, il firewall, l'antivirus, eccetera, eccetera, un sacco di cose tecniche che posso metterci dentro e poi misure organizzativo-procedurali, cioè lavoro in un certo modo tale che so che se lavoro così garantirò qualcosa. Confidenzialità delle informazioni, cioè solo chi ci deve poter accedere, effettivamente alla fine ci può accedere. integrità quando ci accede spera di trovare l'informazione corretta, integra, non modificata, non cancellata, non cifrata o che comunque stia lì. E disponibilità delle informazioni vuol dire sostanzialmente che quando mi serve, mi serve, la devo avere e poter averla magari un giorno dopo, un'ora dopo, un minuto dopo di quando mi serve può determinare il fatto che il mio progetto fallisca. Bene, detta così non serve assolutamente a niente, cerco di contestualizzarvela un pochettino, perché se noi ci concentriamo un pochino sulle prime due, spezziamo il problema in due, concentriamoci prima sulle prime due, la confidenzialità e l'integrità, se le guardiamo insieme, ci danno un'idea di un posto specifico dove possiamo applicare queste cose. Immaginatevi dove ci sono dei dati di valore, dei progetti, delle cose che vogliamo ottenere per noi. Ecco, lì dentro si gioca questa partita solo su questa prima coppia, che è la partita della sicurezza delle informazioni. Tengo al sicuro delle informazioni. Se invece noi guardiamo alle seconde due, cambiamo drasticamente contesto. Ci troviamo da tutt'altra parte e ci troviamo in un posto che è l'ambito della sicurezza operativa, che è più legato a devo fare delle cose, l'informatica, tra parentesi, ha supporto del fare queste cose, deve funzionare, se smetto di funzionare smetto di fare queste cose e quindi per me può essere un problema. Vedete, sono due cose fortemente differenti. Se io faccio dei progetti aerospaziali non voglio che un altro mi rubi i miei progetti e si faccia Space Y per se stesso. Se invece io sto producendo, che ne so, la girella, la girella ha la sua marca, scusate, una qualche merendina, immaginate il tortino beniamino alla frutta, che mi rubino la ricetta un po', chi se ne frega. A me interessa di continuare la mia produzione di quel tortino che devo vendere, perché magari faccio il triplo turno di notte, perché a stento riesco a stare dietro alle commesse e se mi fermo una notte o un giorno, una settimana, 20 giorni, è il tempo medio in cui sta ferma un'organizzazione o un'azienda dopo un attacco informatico, capite che è un problema molto significativo. Bene, quindi due ambiti diversi, considerate che mediamente si parla di progetti di sicurezza informatica, quindi tutte le volte che spendo 100 euro in sicurezza informatica so che più o meno 50 non li sto investendo bene, perché o mi interessa una o mi interessa l'altra di più, difficilmente mi interessano tutte e due. Quindi la prima cosa da chiedersi quando si parla di sicurezza informatica è cosa mi interessa di più, tenermi per me le mie informazioni o avere dei sistemi che continuano a funzionare. Bene, la parte teoretica sta finendo. Perché poi ci sono altri aspetti, alle volte si fanno progetti di sicurezza informatica a chi non interessa né una né l'altra, ma gli interessa di essere conforme a delle norme che richiedono che ci sia sicurezza informatica, protezione dei dati personali per esempio. Si fanno tante attività per garantire i vostri dati personali da parte di un qualunque operatore che li tratta per i suoi fini di business, a cui voi li cedete, e che deve garantire che questi dati stiano al sicuro. Interessa davvero la sicurezza dei vostri dati? Non è detto. Però se non è conforme a queste norme non sta sul mercato e questo gli interessa. e quindi fa sicurezza informatica. Vedete, sono approcci molto diversi, entrate molto diverse su temi che devono essere dipanati per poter cominciare a lavorare. Perché poi io non posso sapere che cosa interessa l'organizzazione se l'organizzazione non me lo dice. È il tema della comunicazione, che è un tema eminentemente umano, è un tema centralissimo nel mondo della sicurezza informatica. Perché poi quello che può interessare all'azienda può essere veramente tutt'altro. può essere, per esempio, riuscire a convincere Paperinica a entrare nel consiglio di amministrazione. Cioè la sicurezza informatica non interessa per niente. Allora, quando cominci un progetto, queste cose le devi sapere. E il tema della comunicazione è l'eterno mancante. Ma la risposta alla domanda che cosa serve all'organizzazione, chi è che ce l'ha, secondo voi? Chi è che sa cosa serve all'organizzazione? È un bel tentativo. No. Chi no? Perché la vedi dal punto di vista di chi fa i sistemi. Bisogna capire il processo produttivo. Non è detto che stia producendo niente. Chi è che sa cosa serve all'organizzazione? Forse è più facile se chiedo chi è che sa cosa serve all'azienda. Come? Come? I dipendenti. I dipendenti sono sempre, però non sono loro. Loro vorrebbero saperlo, ma non lo sanno. Dipende da che azienda. Certo, che cosa gli serve dipende dall'azienda. Ma dentro l'azienda chi è che lo sa cosa gli serve? Non vale. Vediamo che il badge non vale. Badge staff. Hai guardato le risposte. Allora, la risposta a questa domanda è la direzione. È la direzione che sa cosa serve all'impresa. Se deve proteggere dei dati, se deve continuare a produrre. Sono dei piccoli esempi. È chiaro che se devo continuare a produrre, se lavoro nell'azienda lo so. Ma se parte un progetto di sicurezza informatica, non necessariamente chi lo prende in carico lo sa. Guardate che questo è l'anello mancante in qualunque progetto, non in cyber security. La direzione è l'eterno mancante. Perché la direzione ha una caratteristica fondamentale. Conosce e determina la direzione strategica. Quindi parte un progetto, adesso possiamo proprio uscire dal contesto della sicurezza informatica in un'organizzazione e la direzione ti deve dire cosa si aspetta che tu faccia in questo progetto. Guardate che questa cosa impatterà, a meno che l'intelligenza artificiale non vi lasci disoccupati, questa cosa impatterà su di voi. Ve lo posso garantire. Perché tipicamente la direzione non dà nessuna informazione. Quello che certamente sa è cosa gli serve. Prima vi parlavo per esempio di compliance, di conformità alle norme. Allora, è importante questa cosa. L'impresa oggi può fare delle cose. Però io che sono la direzione so che sto andando in una certa direzione. E quindi so anche che dovrò magari essere conforme ad altre norme. Però questa cosa tipicamente non la comunica a nessuno. Così tutto quello che si va a fare oggi potrebbe non essere utile per il domani. E questo è il tipico problema che si pone in questi casi. Di questo vi farò tanti esempi, poi rientriamo ovviamente nel tecnologico e nell'ambito della sicurezza. Ma la verità dei fatti è che è la direzione che poi tipicamente ti lascia da solo, ti fa prendere delle decisioni che non sono coerenti. Cioè la decisione che viene presa da una persona di là non è coerente con quella di là e quindi si va tutti in direzioni diverse. Ah ma sostanzialmente fare le carambate. Cioè se ne esce e dice Ah ah, abbiamo fatto questo cambiamento. E lo dice a tutti quanti. Però una volta che il cambiamento è stato fatto e quindi difficilmente può essere assorbito. Su questo voglio raccontarvi qualche storia, qualche aneddoto, qualche grande classico di questo tipo di problemi di comunicazione che ho visto negli ultimi anni. E qui entriamo un po' nel tecnologico. Mi è successo di vedere, ben due volte nell'ultimo mese tra l'altro, casi in cui la direzione analizza e dice Guardate qua, i costi telefonici sono troppo alti, cambiamo il sistema telefonico, cerchiamo di risparmiare su questa cosa. Viene fatto un progetto all'oscuro di la maggior parte degli attori, si decide di passare al VOIP che voi potreste sapere che transita attraverso internet. Tutto questo lo fai con chi rivede i conti, con gli assistenti di direzione, non coinvolge assolutamente l'informatica. Perché non è un tema informatico questo della riduzione dei costi telefonici, è la testa di chi dirige le imprese. Quindi a un certo punto si arriva a progetto quasi finito, quando è ora di collegare i telefoni che vanno collegati alla rete, non più alla rete telefonica, ma a quella rete informatica dell'impresa, e a quel punto si coinvolge. Le dite, guarda, questi sono i telefoni, vanno collegati. E vi dico, vi ho messo due volte nell'ultimo mese, questi non le sapevano niente. E' chiaro che a questo punto ti trovi a dire, ok, sta per introdurre una tecnologia completamente nuova nella mia organizzazione, e devo collegare oggi questi telefoni alla rete, e la sicurezza chi la tratta? Nessuno. Quindi semplicemente si connettono. Sono queste cose che portano poi ad avere il 97% degli host non sicuri sulla rete. Non avere alcun genere di progettualità. L'esempio successivo è ancora più divertente, perché mi è successo di star facendo un audit con un responsabile informatico, e a un certo punto l'hanno chiamato, scusa, vieni un attimo. E poi questo torna da me e mi fa, dobbiamo interrompere, perché stanno facendo partire un secondo stabilimento di cui non sapevo niente, e c'è l'elettricista che sta collegando il ponte radio per agganciare la rete. Cioè, voi vi immaginate cosa vuol dire prendere due stabilimenti, di collegarli fra loro e sperare che funzioni tutto a livello di rete. Non avete, certamente non avete idea della complessità che può stare dietro a un progetto di interconnessione di due stabilimenti. Fatto sta che in qualche modo te ne cavi fuori nel più breve tempo possibile, ma la cozzaglia che resta lì non la curerai mai. Ed è per quello che appena entra un criptovirus è finita. Perché non c'è nessuna progettualità in questo modo. E il problema è sempre all'apice, è sempre direzionale. Poi vabbè, il terzo esempio lo lasciamo perché non vorrei andare troppo lungo. Quindi il tema è quello della direzione latitante nell'ambito in generale, negli ambiti informatici, se l'informatica può essere un vostro interesse, anche al di fuori della sicurezza, e soprattutto nell'ambito della sicurezza informatica. Quindi avere le risposte alle mie domande nel momento in cui faccio un progetto cyber security è pressoché impossibile, devo inventarla. E questo dà ovviamente una grandissima qualità al risultato finale. Uno degli esempi che posso darvi, poi la direzione rappresenta anche un po' la posizione dell'impresa. Nelle imprese oggi voi saprete, ma anche voi probabilmente avrete seguito qualcosa, si parla di cyber security awareness. Cioè, sono formazione legata all'uso sicuro degli strumenti informatici. Tipicamente vengono fatti dei corsi a tutti, ma la direzione non ci partecipa perché per scienza infusa loro sanno cosa non deve essere fatto e come usare in maniera sicura gli strumenti. Ora voi capite che messaggio mando a tutte le persone che lavorano con me o per me, se dico questa cosa è talmente importante, la dobbiamo fare tutti, stiamo tutti attenti e poi nemmeno mi presento a fare il corso perché a me non interessa. E vi assicuro che ho visto cambiare proprio da così a così l'efficacia di questi corsi in ambiti in cui la direzione era presente ai corsi, era attenta, faceva domande, partecipava in maniera interessata rispetto a dove non c'era. Da una parte si sono portati a casa la sicurezza operativa e dall'altra no. Dall'altra c'è gente che fa doppio clic a caso perché si rende conto, apprende dalla direzione che il tema della sicurezza informatica non è poi così importante. Altri problemi, e qui ci spostiamo, cominciamo a muoverci verso cyber security. C'è qualcuno che è particolarmente interessato alla cyber security? Ok, ok, siamo pochissimi ma io sono uno di quelli interessati. Allora, non coinvolgere le persone corrette nella progettazione. Vi ho parlato prima per esempio del collegare il VoIP alla rete senza aver informato l'informatica. non coinvolgo le persone semplicemente perché è molto più costoso, mi devo chiedere ma quali sono le persone che potrei dover coinvolgere dentro la mia organizzazione. Quindi tipicamente questi progetti vengono portati avanti dalle persone sbagliate. E quindi succede per esempio, venga coinvolto il responsabile di un reparto che di fatto non ha la più pallida idea di come lo ha il reparto, però viene coinvolto lui e le cose vanno avanti con le persone che sono sempre meno contente e gli obiettivi che sono sempre più lontani da raggiungere. Oppure, un altro problema che vedo spesso è quello di voler raggiungere i risultati che sono troppo teoretici. Un esempio, che è un classicone, è quello della segregazione dell'accesso ai dati. Voi saprete, comunque avete molta esperienza sul fatto, che non vorreste che chiunque possa accedere ai vostri dati. E nelle organizzazioni vale lo stesso principio, cioè c'è chi è autorizzato ad accedere a certi dati e ci deve poter accedere e gli altri no. Questa si chiama segregazione ed è una cosa che vorremmo tanto avere ma in realtà non abbiamo. Una delle cose che voi conoscete benissimo e che per voi rappresenta fondamentalmente l'informatica che è la tecnologia cloud, nelle organizzazioni dovete sapere che è ancora una novità. Nelle aziende italiane, nelle micro imprese italiane è una novità, così come nelle grandi. Quindi abbiamo dati in casa e sono 20 anni, di più, 30 anni che li utilizziamo in un certo modo e abbiamo capito e sono segregati quasi sempre, eccetera. Allora, decidiamo di utilizzare, non so, SharePoint per condividere dati. SharePoint si articola in tutta una serie di tecnologie, OneDrive, Teams, non so se abbiate avuto modo di provare queste cose. Il fatto sta che è un attimo che le persone capiscono come condividere informazioni con gli altri ed è un attimo che perdi totalmente il controllo dei tuoi dati e questa cosa l'ho vista più volte e in realtà in cui poi, dopo ma neanche un anno di utilizzo, ti dici ok, da me lavorano 100 persone, ma com'è che ho 600 utenti che possono accedere ai miei dati? E chi sono? Ma soprattutto, a quali dati accedono? E rispondere a queste domande è drammaticamente difficile dopo che stai utilizzando tecnologia senza averla normata, senza averla fatta entrare con una progettualità. E anche qui, problema di comunicazione. L'approccio impositivo, lo vedo spessissimo nelle organizzazioni, anche questo ha a che fare con una cosa meravigliosa che si chiama Shadow IT che voi potreste non aver mai sentito nominare, ma che voglio spiegarvi perché è tanto importante. Normalmente, quando si lavora, si devono risolvere dei problemi e si ha delle opportunità per risolverli, ho del software a disposizione, dei servizi per farlo. Bene, però questi strumenti che ho a disposizione non sempre sono sufficienti, quindi cosa faccio? Me ne trovo degli altri. Ed è una cosa assolutamente utile, dal punto di vista security è rischiosissima. Vi faccio un esempio, software per, immaginate di avere 5 pdf che volete mettere in un pdf unico, come fate? Troviamo un servizio online che mi fa sta cosa, mi mando i pdf e questo mi restituisce un pdf unico. Lo fanno ovviamente normalmente anche nelle aziende e va, non posso dire che va bene, perché il problema di tutto questo è che sto spedendo i miei dati fuori a non so chi, che ne sta facendo non so cosa, ma che di sicuro mi sta restituendo l'unico file che contiene tutto. Allora, questo è un esempio... Sì? Sì. Non... Sì. Posso risponderti volentieri... A parte, sì, è una domanda, sì, vorrei restare fuori dall'ambito commerciale. Sì, sì, volentieri, dopo più tardi volentieri. Mi sono perso completamente. Allora, lo shadow IT è un rischio per un esempio come quello che ho fatto adesso, cioè ho delle persone che lavorano da me che cominciano a spedire fuori documenti a caso perché hanno bisogno di un servizio. Dall'altra parte, però, mi permette di individuare un'esigenza, cioè c'è l'esigenza di accorpare dei PDF accidenti, quindi devo dare uno strumento per farlo. Un approccio impositivo, cioè qui da me si lavora così perché si lavora così e non cos'ha, e assolutamente cos'ha, è il modo assolutamente sbagliato per arrivare a queste informazioni. Quindi trovare approccio impositivo dalla direzione è una cosa che succede spessissimo e che intralce in maniera terribile qualunque progetto fra i quali i progetti di sicurezza informatica. Cambiamento è un aspetto fondamentale insieme a comunicazione, altro aspetto fondamentale è quello del cambiamento. Nel momento in cui, prima di arrivare sulla sicurezza informatica, un tema importantissimo quando si fa qualunque progetto evolutivo è quello di spiegare perché voglio fare questa evoluzione, a cosa ci serve fare questa evoluzione, dove ci porterà o dove ci permetterà di arrivare a fare questa evoluzione. Se io ho un approccio di questo tipo nei vostri confronti, posso riuscire a coinvolgere qualcuno che vuole andare nello stesso posto in cui l'organizzazione vuole andare o io voglio andare e farlo lavorare per arrivare con me a quell'obiettivo. Se invece io questa cosa non la faccio, semplicemente le persone si trovano calare dall'altro le richieste di cose da fare, non sanno perché le fanno, saranno meno coinvolte, ma soprattutto molto meno motivate. La sicurezza informatica è una rottura di scatole. Qualunque misura di sicurezza informatica è un in più rispetto a quello che naturalmente io vorrei fare. Voi assolutamente non lo ricorderete, anzi non potete ricordarlo, ma una volta i computer si premeva il tasto, si accendevano e si cominciavano a dotare. Poi qualcuno ha introdotto le password, maledetto. E da quel giorno hai dovuto essere la password. Io avevo un coinquilino all'università la cui password del computer era mi tocca, nel senso che mi tocca mettere la password, la metto e questa era la sua password. Evidentemente non è una password sicura perché voi siete sicuramente molto più forti del mio coinquilino dell'università nello scegliere le password, lo sapete. Però il concetto è la password è una misura di sicurezza e di fatto è un intralcio. Allo stesso modo in cui è un intralcio avere la serratura su una porta. Nel momento in cui devo entrare e uscire, devo trovare le chiavi, devo aprire o devo chiudere per poter entrare, se non ci fosse cazzarola sarebbe molto più comodo utilizzare. Lo stesso sarebbe per i cancelli, se proprio non ci fossero i cancelli saremmo tutti benissimo. Sarebbe tutto un po' meno sicuro. Oggi ci troviamo a implementare sempre più misure di sicurezza perché l'informatica è sempre più pervasiva sia nell'ambito lavorativo sia nelle nostre vite. Il che ci rende sempre più complesso utilizzarla. Ed è evidente che essere in grado di gestire con le persone questo cambiamento è fondamentale per riuscire poi a far accogliere serenamente questo cambiamento che bisogna fare e portarlo a terra in maniera positiva. Altro problema che vedo anche questo in più progetti, non solo in quelli di sicurezza informatica, che è un altro problema dell'animo umano, la golosità, è quello di voler portare a casa, oltre a quello che ci diamo come obiettivo di progetto, troppe cose in più. Cioè mentre si lavora è normale avere delle opportunità che vengono fuori. Ce ne sono alcune, dici voglio fare A, però per fare A primo non mi costa niente di più, dai facciamolo così l'abbiamo portato a casa. E così alla fine del lavoro hai A più A primo. Però se per tutte le lettere ti porti a casa, cerchi di portarti anche a casa B primo, B secondo, B terzo, B quarto, C primo, C secondo, C terzo, la verità è che non arrivi mai a concludere. E questa cosa l'ho vista succedere un sacco di volte. Io sono convinto che questa cosa dipenda dal fatto che i progetti di cyber security, le imprese mediamente ci pensano dieci anni se farli partire, poi nel momento in cui effettivamente il progetto parte, dici boh se trovo qualcosa lo faccio. Però la verità dei fatti è che questo non ti fa mai concludere, quindi a un certo punto vai troppo lungo con i tempi, dopo un po' ci si demotiva, dopo un po' finiscono i soldi, perché a fare B primo, B secondo, B terzo, per quanto poco tu spenda, stai spendendo fuori da quello che avresti dovuto spendere, e quindi alla fine il progetto non arriva. Guardate che queste cose che vi dico sono le motivazioni per cui, adesso non ricordo la percentuale, il 97% del 93% dei sistemi informativi delle aziende italiane è un colabrodo. Non è per questioni chissà di che livello, basate su chissà quale scienza tecnologico, informatico-scientifica, è a causa delle persone che non sanno comunicare, non sanno organizzarsi e non sanno gestirsi. Quindi, il tema delle opportunità, questo ci tengo a dirlo, alle volte bisogna saper mandare avanti le cose, cioè devi dire no, noi stiamo andando là, lasciamo perdere tutto il resto, segniamocelo, quando avremo finito sapremo cosa potremo migliorare, ma andiamo avanti. Ecco, questa è una cosa che vale un po' in tutti i progetti, ovviamente. Allo stesso modo, questa cosa si declina in ambiti specifici tecnologici, questo l'ho visto per esempio, quanti di voi sanno cos'è un firewall? Ui, la peppa! Voi dite che non siete interessati di sicurezza, saremo già in 10-12. questa cosa l'ho vista in progetti in cui si sostituisce una tecnologia con un'altra. Il firewall è un ottimo esempio, perché dovete sapere che c'è stato un periodo in cui le aziende hanno, diciamo, è diventato consapevolezza collettiva che bisognava avere l'antivirus. Poi c'è stato un periodo in cui è diventata consapevolezza collettiva che bisognava avere un firewall. E questa cosa ha portato un po' anche ad oggi che in una sala in cui verosimilmente molti di più avrebbero potuto dire io non ho idea di cosa sia, so che c'è una cosa che si chiama così e basta. Un po' come per me l'impepata di cozze, so che è un piatto ma non ho la più palla idea di cosa sia. Bene, detto tutto questo, quando fai una sostituzione tecnologica così importante all'interno di una rete, hai 3.000 opportunità da portarti a casa. Se non sei molto convinto che tu devi comunque chiuderlo, questo lavoro, alla fine non lo chiudi e il firewall nuovo che magari hai comprato sta a fare la polvere, mentre di fatto il livello di sicurezza non aumenta. quindi per le nuove tecnologie la strada che è assolutamente preferibile è quella fuori uno dentro l'altro e poi miglioriamo. E questa cosa guardate che oggi, e lo è stata per il firewall, oggi siamo sul cloud allo stesso modo, cioè ci sono le organizzazioni che dicono voglio i miei file su SharePoint per esempio o su Google Drive o su dimmi qualcosa di Open per piacere, non mi viene in mente. Sì su Nextcloud però non c'è un vendor di Nextcloud in questo momento, voglio i miei dati su Nextcloud e nel fare il passaggio da File7 a Nextcloud decide di portare a casa tutto quello che si può portare a casa nella nuova piattaforma di Nextcloud con il risultato che o non parte il progetto oppure si ferma a metà oppure viene una cosa così complessa che magari lo porti a casa tutto e con sofferenze disumane di chi lavora nel progetto ma poi è ingestibile perché nessuno, non c'è stato il tempo di far permeare la consapevolezza di che cavolo è questa nuova tecnologia sulla quale stiamo lavorando. Il tema dei troppi filosofi a bordo mi piace molto, ci ho fatto pure un'immagine che spero saprete riconoscere. Cioè questo è il tema in cui si dice ok voglio fare questa cosa e la voglio fare in maniera così precisa che voglio gestire il caso del se succede il caso del sottocaso del sottocaso del sottocaso del caso speciale allora faremo in questo modo. La verità è che quando cominci una progettazione devi decidere a un livello a cui ti fermi poi a quel punto lì vedremo cosa faremo nel sottocaso del sottocaso del sottocaso del caso speciale. Intanto portiamoci a casa il risultato e dopo miglioreremo. Tengo a ricordarvi queste sono le motivazioni per cui i progetti non finiscono, finiscono male e il risultato è quello che vediamo nelle nostre imprese, cioè non esiste la sicurezza informatica. Tema assolutamente fondamentale nel mondo del cyber security circus e qui andiamo un po' verso la chiusura. Cioè quello che mi succede spesso di vedere è il gestore dell'informatica o l'imprenditore che mi dicono ma io ho il prodotto top quindi noi con la sicurezza informatica stiamo a posto e questo ovviamente è sbagliato perché il prodotto top per esempio non configurato si ti costa da prodotto top e il prezzo che ho messo non è tanto fuori dal seminato insomma, tu puoi spendere 100 mila euro in un prodotto top però se quel prodotto non è configurato nel modo corretto non fa niente. E questa cosa, guardate, nella prima era, tutti prevedono consapevolezza che serve il firewall, è quello che si faceva, si compravano firewall di una fascia più importante di quella che si aveva, si installavano senza nessuna configurazione, le lucine facevano le lucine e tutti erano più contenti. I risultati si vedono molto chiaramente dal punto di vista del fatto che non hanno alcun impatto dal punto di vista sicurezza, non proteggono niente per dirla in maniera molto chiara. Vi faccio vedere, questo è parte del software di intrusa, adesso si è distratta, vi faccio vedere un'installazione che abbiamo fatto di un software non top in un'organizzazione non piccola perché siamo tra i 100 e 200 milioni di fatturato, che adesso vi spiego come si fa un conto importante, quanto costa un data breach quando c'è la possibilità di restare fermi e la media del tempo che si sta fermi, come vi dicevo prima, sono 20 giorni. Voi sapete che in un anno ci sono 365 giorni perché non siete ancora nel mondo del lavoro, altrimenti per voi ci sarebbe una netta separazione fra l'anno solare e l'anno lavorativo che invece è fatto da 220 giorni quando va bene, 210 è più adeguato. Se faccio 200 milioni e sto fermo 20 giorni, quanto ho perso? E se faccio 200 milioni ma ho 180 milioni di spesa e quindi di fatto il mio guadagno sono 20 milioni e sto fermo 20 giorni, quanto ho perso? Devo cominciare a licenziare la gente ragazzi, perché ho perso tutto, quell'anno ho perso tutto, questa cosa non si riesce a capire, allora spendo 100, butto via 100 mila euro in un prodotto di sicurezza top e poi mi arriva quello scemo di Andrea che mi installa questo software e non costa niente e comincia a dirmi, ah questa è la schermata con le vulnerabilità che vengono rilevate così immediatamente, ah ma è una vulnerabilità critica nel controller di dominio, se mi permetti di attaccare il computer fra 10 minuti sono amministratore di dominio, faccio quello che voglio, game over, cappotto, è finita per te. Ed è quello che fanno gli attaccanti ragazzi, tu fai doppio clic in un ambiente così sull'allegato sbagliato, game over. E questa è la prima pagina, perché poi c'è anche la seconda pagina, allora il prodotto top, ci sto spendendo 100 mila euro, il numero è vero ragazzi, ci sto spendendo 100 mila euro, non mi sta nemmeno dicendo, guardate l'ultima freccetta, che su 5 host, su 120, 130, 130, non c'è nemmeno l'antivirus, il mio prodotto top per la cyber security, fa questo, oppure guardate la prima freccetta qui, ci dice ok, sugli altri che ce l'hanno l'antivirus, su 6 di questi non sono aggiornati, non servono a niente. Su una qualunque di quelle 11 macchine, la persona che ci sta lavorando fa l'errore di fare doppio clic sull'allegato sbagliato, over. Stai fermo 20 giorni, sui tuoi 200 milioni non ne fatturi 20, che guarda caso è l'unica cosa che avresti guadagnato quest'anno, se hai il 10%, perché molte aziende sanno il 5%, molte aziende hanno il 5% come obiettivo, se riesco a ricavare il 5% del fatturato, sono stato bravo, quindi può essere che perdi il ricavo dei due anni e hai chiuso tutti a casa. Perché? Per la presunzione del fatto di chi ti porta una soluzione top, di te che dici ok adotto questa così non serve che ci penso e il fatto che nemmeno ti sei risposto alla prima domanda che io vi ho portato oggi e che voi avete certamente capito tutti, che è la differenza fra proteggere informazioni e proteggere la continuità di servizio. Allora la tua piattaforma top cosa protegge? Le informazioni e la continuità di servizio? Fa la sicurezza informatica, ok, no, tieni 100k però vai a casa, non è così che posso proteggere il mio business. Ok, questi sono screenshot del mese scorso, un'installazione del mese scorso, non è che vi sto parlando di cose che non esistono. E questa azienda è ancora così, perché abbiamo installato il software, hanno visto i risultati e ovviamente ci deve essere tutta una scala gerarchica prima di andare a mettere a posto una cosa come quella nella prima freccetta che basta fare quattro click e ce ne dobbiamo parlare in 28, perché sono quattro anni che stiamo dando 100.000 euro a questi, abbiamo speso 400.000. Tutto poi lontano dal fatto che se qualcuno adesso fa quel doppio click, voi lo leggete domani sui giornali, quella è l'azienda perché è a Sacile, non è a New York. Bene, torniamo ai nostri risultati. Il software che hai usato, CM Cloud, è a pagamento, è gratuito, open source, si può usare da tutti? Non posso rispondere a questo. Allora no, questo è un software commerciale, questo è un software commerciale. Però possiamo fare, per chi è interessato a temi tecnici, profondamente tecnici legati all'open source, sono a disposizione. Dopo. Anche adesso se volete. se invece dovessi fare l'auditing di un'applicazione, che approccio prenderesti? Se dovessi fare proprio un sistema già fatto, tra virgolette, un'applicazione, magari Mission Critical, oltre ovviamente al classico GDB, alle classiche analisi, tra virgolette, statiche, cosa faresti per testarla? Che bella domanda. Eh che bella domanda. E noi facciamo questo di lavoro in realtà, quindi ho un'idea abbastanza ben chiara di cosa farei per testare un'applicazione. Sì, 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 è il nostro lavoro, sì. È la nostra passione più che lavoro, perché poi abbiamo la fortuna di fare, io e i miei due o tre colleghi, noi siamo pochi, abbiamo la fortuna di fare quello che ci piace, quindi sì. Tutto questo ci riporta ai risultati, che è il momento in cui guardo l'ora e capisco se tediarvi ancora, non lo voglio fare. Ragazzi, avete delle domande che non siano squisitamente tecniche, a cui rispondo molto volentieri più tardi, per non tediare... Allora ce l'ho io una domanda per voi. Siccome... sono profondamente appassionato di questa cosa che faccio della sicurezza, ma proprio dell'informatica e di Linux che uso dal 1998, cosa stavate facendo voi nel 98, ditemi? Secondo voi, secondo voi, perché ho scelto di non parlarvi di tecnologia? Bellissima domanda. Allora, ne devo scegliere tre. Allora, il primo è, che poi porta tante ramificazioni che sono importanti e quindi sarebbero il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, è non avere un approccio passivo. Penso che stiamo parlando di tecnologia comunque, giusto? È non avere un approccio passivo. È molto importante guardare alle cose, da una parte con curiosità e di interesse, che è anche poi quello che porta alla spinta di usarle, se sono cose tecnologiche. Ma non usarle in maniera passiva, cioè chiederci che cosa è questa cosa? Chi c'è dietro a questa cosa? E quello che porta un po' sempre alla risposta, siccome siamo abituati ad avere un sacco di tecnologia gratis, è cercare di rispondere un po' per esercizio, ma documentandosi, non buttandola là. E chi è che guadagna nel fatto che io utilizzo questa tecnologia? Ecco, questo approccio, avere questo approccio da una parte di curiosità, interesse, che non la respinga perché tanto la tecnologia si prende al nostro posto comunque, la tecnica ci governa, non possiamo farne più o meno. Al costo di essere emarginati dal resto della società non possiamo non adottarla. Quindi avere un approccio critico e informato è sicuramente il grande consiglio che posso darvi. La risposta, cioè riuscire a rispondere a chi ci guadagna, che non è una cosa negativa, tutti hanno il diritto di guadagnarci finché non ledono i diritti degli altri, ma capire come funziona il meccanismo di business che sta dietro al fatto che io oggi uso un'applicazione in più, mi aiuta a usarla meglio, a essere più attento. Seconda e terza? Secondo me questa è sufficiente. Qualcuno vuole rispondere alla mia? Sì. Prego. Volevo chiedere, ci sono aziende italiane che si occupano di sicurezza informatica in modo serio, cioè quindi portano a termine tutti i loro progetti che si stabiliscono di voler portare a termine. Ci sono aziende serie? Sì, ci sono. Sono rappresentanti di due aziende, non posso dire di... scherzo ovviamente. Ce ne sono moltissime, ce ne sono molte che hanno una struttura commerciale e gli assetti si vedono, c'è l'azienda che ha, prendiamo aziende piccole, che ha sette tecnici e tre commerciali, c'è l'azienda che ha tre tecnici e sette commerciali. Ovviamente la seconda performa molto bene nel vendere ma poi porta a terra progetti meno efficaci. Comunque sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che quello che volevo portare oggi è come le organizzazioni si auto... ledono in tutto questo. Oggi non ho voluto parlare di budget. È chiaro che posso avere la migliore delle intenzioni nel fare sicurezza informatica, comunicare con tutti, gestire il cambiamento, coinvolgere, eccetera, però faccio entrare un progetto di sicurezza informatica in cui metto mille euro, dopo quattro anni perché c'è un bando così il 40% lo paga la regione. È chiaro che con questa intenzione di investirci non fa a terra il progetto. È un vero grosso problema. Se ci sono 100 aziende in Italia, quante di queste aziende si occupano, diciamo, sono più propense nel vendere piuttosto che nel dare un servizio ottimo, propenso alla qualità del servizio? È veramente difficile rispondere a questo. Ci sono tante aziende che lavorano bene, posso dire sicuramente questo. È una questione veramente... dipende da tanti aspetti, non è così immediato. Diciamo, questi fallimenti epici di cui però vi ho parlato non dipendono dall'esterno. È chiaro che se io faccio un software e voglio vendere il mio software, cercherò ogni apertura per vendere il mio software. Quando so che il 70% delle aperture, non è il mio software la soluzione migliore, non è il 70% delle aperture, però alla fine devo fare il fatturato. Il rischio c'è sempre, è sempre latente, è sempre latente. Fai un investimento e non è quello migliore. Non vuol dire che l'azienda non lavori bene, che il software non funziona bene, che se gli dà il progetto giusto... C'è un modo di dire che purtroppo non posso dire col microfono in mano. Però se il cliente ti chiede insistentemente una certa cosa e a un certo punto gliela dai. Però se vuoi dopo... grazie mille. Prego. C'ho il contapassi, che ho 42 anni, questo è l'unico sport che faccio. Volevo chiedere, cosa ne pensa di Windows? Una domanda generale. Lei usa Windows nella sua azienda? Allora, no. Io sono molto fiero di aver startuppato due aziende Linux-based, open source-based in generale proprio. E anche sono molto fiero di, nonostante avessimo tutti le competenze per farci i nostri sistemi in casa, sono anche molto fiero di aver comunque arricchito il territorio facendo lavorare altre aziende sui nostri sistemi. Poi in una delle due aziende ho scelto un responsabile tecnico e lui ci ha portato Microsoft dentro. Usiamo tutto Microsoft ormai, una delle due. Questo è anche... Quando avevo la vostra età io avevo una maglietta con scritto IHateBitGays.com. Ho capito che l'odio non è la strada e soprattutto Microsoft ha capito che la qualità del software diventava importante e posso dire che uno dei grandissimi cambiamenti che è stata lacrime e sangue per Microsoft è stata l'analisi, la gestione del rischio informatico, un approccio risk-based sul software e questo ha pagato. Perché oggi io non lo uso, io non uso Windows dal... Non scherzavo, dal 98 uso Linux, quindi l'ho usato Windows fino a Windows 98 seriamente e voi non l'avete visto. Quindi non possiamo parlarne molto. Quello che mi ricordo... Comunque... Perché è un ottimo posto dove exploitare roba, d'altra parte. Posso dire che la qualità del software oggi non è neanche comparabile, è molto buona, molto buona. Molte aziende open stanno passando. Allora ti faccio anche io una domanda per concludere. Qual è il tuo messaggio per i ragazzi in questo mondo in cui vedi un po' la sicurezza informatica da fuori, vedi tutti questi termini difficili per tantissimi poi che ti affacciano alla prima volta in cui vedono una cosa sembra noiosa. Lo è? Ok. No, non credo perché io mi sono un po' avvicinata ma da fuori sembra... Dici ma cos'è sta roba? Invece quando vai, io ho visto per esperienza, quando ho provato un po', è la cosa più... la programmazione ma anche questa, la cosa più creativa che si possa... che se uno non è creativo non ce la fa. interessante. Ma cosa applaudite, cosa applaudite? Tutti, no, 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 tutti gli sviluppatori, tutti gli sviluppatori in sala saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale e entro dieci anni. Non applauditevi questa cosa! Applausi 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 Applausi